François de Sade dialogo tra un prete e un moribondo ora che l'istante fatale è arrivato e che il velo dell'illusione cade lasciando all'uomo disingannato soltanto la cruda visione dei suoi errori e dei suoi vizi caro figuolo non vi pentite della continua sregolatezza in cui vi siete trascinato per umana debolezza e fragilità sì amico mio mi pento ebbene nel breve tempo che vi resta approfittatene per questo rimorso potete ottenere dal cielo la piena assoluzione delle vostre colpe e badate che potrete ottenerla dall'eterno soltanto con la mediazione del santissimo sacramento della penitenza non ti comprendo e credo che tu non mi abbia capito come? ti ho detto che mi pentivo l'ho sentito? sì ma senza capirlo che volete dire? ecco creato dalla natura con delle inclinazioni assai vivaci e con delle passioni molto forti venuto al mondo unicamente per abbandonarmi ad esse e per soddisfarle considerato che questi effetti della mia creazione non sono altro che necessità relative ai disegni primari della natura o se preferisci derivazioni essenziali dei suoi progetti su di me dipendenti tutti dalle sue leggi io mi pento soltanto di non aver riconosciuto abbastanza la sua onnipotenza i miei unici rimorsi riguardano lo scarso uso che ho fatto delle facoltà criminali secondo te primarie secondo me che essa mi aveva dato per servirla le ho resistito qualche volta e me ne pento accecato dall'assurdità dei tuoi principi mi pento di aver combattuto per causa loro tutta la violenza dei desideri che avevo ricevuto per un'ispirazione molto più divina invece di una messa di fiori potevo raccogliere abbondanti frutti ecco i giusti motivi dei miei rimpianti cerca di stimarmi abbastanza da non attribuirme né altri come vi portano lontano i vostri errori i vostri sofismi attribuite alla creatura tutta la potenza del creatore e non vedete che le disgraziate inclinazioni che vi hanno traviato sono soltanto gli effetti della natura corrotta alla quale attribuite l'onipotenza amico mi pare che la tua dialettica sia sbagliata quanto il tuo suggerimento vorrei che tu ragionassi meglio o che mi lasciassi morire in pace che intendi per creatore e che intendi per natura corrotta? il creatore è il padrone dell'universo colui che ha fatto e creato tutto e che tutto conserva per semplice effetto della sua onnipotenza ecco di certo un grand'uomo ebbene dimmi perché quest'uomo che è così potente secondo te ha fatto una natura corrotta che merito avrebbero avuto gli uomini se Dio non avesse lasciato loro il libero arbitrio e se sulla terra non ci fosse stata la possibilità di fare il bene e di evitare il male che merito ne avrebbero avuto? così il tuo Dio ha voluto fare tutto al contrario soltanto per tentare o mettere alla prova la sua creatura allora non la conosceva? non sospettava quale sarebbe stato il risultato? la conosceva senz'altro ma ancora una volta voleva lasciarle il merito di scegliere a che pro dato che sapeva quale partito avrebbe preso e che dipendeva soltanto da lui poiché tu dici che è onnipotente dipendeva solo da lui dico fargli prendere quello giusto chi mai può comprendere i disegni immensi e infiniti che Dio ha per l'uomo? chi può comprendere tutto ciò che vediamo? colui che semplifica le cose amico mio e soprattutto colui che non moltiplica le cause per ingarbugliare meglio gli effetti che bisogno hai di una seconda difficoltà quando non riesci a spiegare la prima? e dal momento che la natura potrebbe aver fatto da sola ciò che tu attribuisci al tuo Dio perché vuoi andare a cercarle un padrone? la causa di ciò che non capisci è forse la cosa più semplice del mondo studia meglio la fisica e capirai meglio la natura libera la tua ragione bandisci i pregiudizi e non avrai più bisogno del tuo Dio sciagurato ti credevo soltanto sociniano ed ero armato per combatterti ma mi accorgo che sei un ateo e dal momento che il tuo cuore nega l'immensità delle prove autentiche dell'esistenza del creatore che riceviamo ogni giorno non ho più niente da dirti a un cieco non si restituisce la vista amico mio devi ammettere che tra due individui chi si mette la benda sugli occhi è certamente più cieco di chi se la strappa tu costruisci, inventi, moltiplichi io distruggo e semplifico tu aggiungi errori su errori io li combatto tutti chi è il cieco tra noi due? dunque non credete in Dio? no è per una ragione molto semplice è assolutamente impossibile credere ciò che non si comprende tra comprensione e fede devono esistere dei rapporti immediati la comprensione è il primo alimento della fede dove non c'è comprensione la fede è morta e coloro che asseriscono di credere senza comprendere fingono io ti sfido proprio a credere nel Dio che vai predicando non potresti dimostrarlo perché non sei in grado di definirmelo di conseguenza non lo comprendi e dal momento che non lo comprendi non puoi più fornirmi alcun argomento razionale in una parola tutto ciò che cede i limiti della mente umana è chimera o vanità? poiché il tuo Dio non può essere che l'una o l'altra di queste cose nel primo caso sarei un pazzo a credere in Lui nel secondo un imbecille amico mio tu provami che la materia è inerte e io ammetterò il creatore tu provami che la natura non è sufficiente a se stessa e io ti concederò di sottometterla a un padrone fino a quel momento non aspettarti niente da me mi arrendo soltanto all'evidenza che unicamente i miei sensi riconoscono e dove essi vengono limitati la mia fede rimane senza forza credo nel sole perché lo vedo lo concepisco come il centro in cui si riunisce tutta la materia infiammabile della natura e la sua corsa periodica mi affascina senza stupirmi è un procedimento della fisica forse tanto semplice quanto quello dell'elettricità ma che non c'è dato di comprendere perché debbo andare oltre quando avrai aggiunto il tuo Dio a tutto questo avrò guadagnato qualcosa non mi servirà comunque per capire l'operaio lo stesso sforzo necessario per capire l'opera di conseguenza costruendo la tua chimera non mi hai reso alcun servigio hai turbato la mia mente anziché illuminarla e non riconoscenza bensì odio ti devo il tuo Dio è una macchina che hai fabbricato per servire le tue passioni e farla muovere a loro piacimento ma dal momento che disturba le mie approvami se l'ho smontata e negli istanti in cui la mia anima debole ha bisogno di calma e filosofia non cercare di metterla alla prova con i tuoi sofismi che la spaventerebbero senza convincerla e l'irriterebbero senza renderla migliore l'anima amico mio è come la natura l'ha voluta cioè l'insieme degli organi di cui essa mi ha volentieri fornito per i suoi disegni e bisogni e siccome ha un eguale bisogno di vizi e virtù quando ha voluto spingermi al vizio lo ha fatto quando ha voluto indirizzarmi alla virtù me ne ha ispirato il desiderio e io comunque mi ci sono affidato è nelle sue leggi soltanto che devi cercare l'unica causa dell'incoerenza umana e nelle sue leggi non cercare altri principi se non i suoi voleri e necessità allora nel mondo ogni cosa è necessaria certamente ma se ogni cosa è necessaria è dunque anche regolata e chi ti dice il contrario e chi può regolare tutto com'è se non una mano onnipotente e onnisciente non è forse una necessità che la polvere da sparo si incendi quando le viene dato fuoco sì e che saggezza vedi in questo nessuna è dunque possibile che ci siano delle cose necessarie indipendenti dalla saggezza e di conseguenza è possibile che tutto derivi da una causa prima indipendente da elementi come la ragione o la saggezza dove volete arrivare a dimostrarti che tutto può essere com'è e come lo vedi senza dipendere da una causa sagge e razionale e che a cause naturali seguono effetti naturali senza bisogno di cercarne di antinaturali come invece sarebbe il tuo Dio egli stesso come già ti ho detto avrebbe bisogno di spiegazione e non ne fornisce alcuna di conseguenza dal momento che il tuo Dio non è buono a nulla è perfettamente inutile e con ogni probabilità ciò che è inutile è inconsistente e tutto ciò che è inconsistente non esiste così per convincermi che il tuo Dio è una chimera non ho bisogno di altro ragionamento all'infuori di quello che mi fornisce la certezza della sua inutilità di questo passo mi sembra inutile parlarvi di religione e perché no niente mi diverte come vedere a quali eccessi di fanatismo e imbecillità siano giunti gli uomini questo genere di deviazioni sono capaci di rendere comunque interessante uno spettacolo raccapricciante tanto sono prodigiose rispondi con franchezza e soprattutto bando all'egocentrismo se io fossi abbastanza debole da restare affascinato dal tuo ridicolo sistema dell'esistenza favolosa di un essere che rende necessaria la religione in che forma mi consiglieresti di tributargli un culto vorresti farmi adottare le fantasticherie di confucio piuttosto che le assurdità di brama che io adori il grande serpente dei negri l'astro dei peruviani o il dio delle armate di mosè a quale setta di maometto vorresti che io mi consegnassi oppure quale eresia cristiana preferiresti attento a ciò che rispondi potrei avere dubbi allora siete egocentri no è perché ti amo quanto me stesso che ti consiglio ciò che credo ed è perché tutti e due ci amiamo così poco se ascoltiamo errori simili ma come chi può essere cieco ai miracoli del nostro divino redentore chi vede in lui soltanto il più ordinario dei furfanti e il più comune degli impostori ok lo udite e non lo fulminate no amico mio tutto tace perché il tuo dio per impotenza o per ragione o per tutto quello che attribuisce a un essere di cui ammetto l'esistenza solo un attimo per accontentarti o se preferisci per prestarmi alle tue meschinerie perché questo dio dicevo se esiste come hai la follia di credere non può aver scelto per convincerci dei mezzi così ridicoli come quelli che presuppone il tuo Gesù cosa le profezie i miracoli i martiri non sono tutte prove come pretendi a rigor di logica che io possa accettare come prova ciò che a sua volta ha bisogno di essere provato perché la profezia diventi una prova dovrei prima avere l'assoluta certezza che si sia avverata ora è stata tramandata dalla storia quindi per me non può avere più valore degli altri fatti storici tre quarti dei quali sono assai dubbi se a questo aggiungo anche la possibilità più che verosimile che essi mi siano stati trasmessi soltanto da storici interessati potrò a buon diritto dubitarne chi mi assicurerà ad altronde che questa profezia non sia stata fatta a posteriori che non sia stato il risultato di un semplice accordo politico come quella che prevede un regno felice sotto un re giusto o una gelata durante l'inverno e se tutto questo è vero come vuoi che una profezia che ha tanto bisogno di essere provata possa essa stessa diventare una prova per quanto riguarda i tuoi miracoli non mi impressionano di più tutti i forfanti ne hanno fatti e tutti gli sciocchi ci hanno creduto per persuadermi della verità di un miracolo dovrei essere ben certo che l'evento che definisci tale sia assolutamente contrario alle leggi della natura perché soltanto ciò che è esterno alla natura può essere considerato un miracolo e chi la conosce così tanto da poter affermare qual è il punto preciso in cui essa finisce e in cui viene oltrepassata a dar credito a un presunto miracolo bastano due cose un giocogliere e delle donniciole va là non cercare mai altra origine per i tuoi miracoli ogni capo di una nuova setta ne ha fatti e questa è la cosa più singolare tutti hanno trovato degli imbecilli che li hanno creduti il tuo Gesù non ha fatto nulla di più singolare di Apollonio o di Tiana e nessuno tuttavia si azzarda a prendere costui per un Dio quanto ai tuoi martiri sono certamente i tuoi argomenti più fiacchi per farne basta un po' di entusiasmo e di resistenza e finché la causa avversa me ne offrirà tanti quanto la tua non sarò mai sufficientemente autorizzato a credere che una causa sia migliore dell'altra ma in compenso sarò molto portato a considerarle entrambe da compatire amico mio se il Dio che vai predicando esistesse davvero avrebbe forse bisogno di miracoli martiri e profezie per imporre il suo dominio e se come dici il cuore dell'uomo fosse opera sua non l'avrebbe anche scelto come santuario per la sua legge questa legge imparziale perché derivante da un Dio giusto si troverebbe irresistibilmente scritta in ognuno da un capo all'altro dell'universo tutti gli uomini già simili perché dotati di un cuore sarebbero simili anche per l'omaggio che renderebbero al Dio che ha donato loro quest'organo delicato e sensibile tutti avrebbero un unico modo di amare questo Dio tutti un unico modo di adorarlo o di servirlo e sarebbe impossibile per loro misconoscerlo quanto resistere alla segreta seduzione del suo culto che cosa vedo invece nell'universo altrettante divinità quanti sono i paesi altrettante maniere di servire questa divinità quanti sono i cervelli e le credenze e questa molteplicità di opinioni in mezzo a cui mi è fisicamente impossibile scegliere sarebbe secondo te opera di un Dio giusto ma là predicatore non insulti il tuo Dio presentandomelo in questa veste lasciamelo negare del tutto perché se esiste lo insulto assai meno io con la mia incredulità che tu con le tue blasfemie predicatore torna alla ragione il tuo Gesù non vale più di Maometto Maometto più di Mosè nessuno dei tre più di Confucio che almeno detto qualche buon principio mentre gli altri tre sragionavano ma in generale tutti i costoro non sono altro che impostori che il filosofo ha schernito che la feccia ha creduto e che la giustizia avrebbe dovuto impiccare Ahimè l'ha fatto sin troppo per uno dei quattro è quello che lo meritava di più era sedizioso turbolento calugnatore mascalzone libertino buffone grossolano e malvagio pericoloso possedeva l'arte di impressionare il popolo e diventava di conseguenza punibile nel regime vigente allora a Gerusalemme è stato dunque molto saggio di sfarsene ed è forse il solo caso in cui i miei principi peraltro estremamente miti e tolleranti possano autorizzare la severità di temi giustifico tutti gli errori eccetto quelli che possono diventare pericolosi per il governo sotto cui si vive i re e la loro autorità sono le sole cose che mi incutono soggezione le sole che rispetto e chi non ama il suo paese e il suo re non è degno di vivere ma insomma ammettete che c'è qualcosa dopo la vita è impossibile che la vostra mente non abbia mai tentato di penetrare nel mistero della sorte che ci attende e quale sistema può averla soddisfatta di più se non quello che prevede una mole di pene per chi vive nel male e gioie eterne per chi vive nel bene quale sistema amico mio quello del nulla non mi ha mai spaventato mi appare assolutamente consolante e semplice tutti gli altri sono opera dell'orgoglio solo questo è opera della ragione d'altronde il nulla non è orribile né assoluto non ho forse sotto gli occhi l'esempio delle generazioni e rigenerazioni perpetue della natura niente perisce amico mio niente viene distrutto nel mondo oggi uomo domani verbe dopo domani mosca non significa forse seguitare esiste ma perché vuoi che io venga ricompensato per virtù di cui non ho alcun merito ho punito per crimini che non mi appartengono riesci a mettere d'accordo la bontà del tuo presunto dio con tale sistema mi ha forse voluto creare per godere nel punirmi di una scelta di cui non mi lascia padrone lo siete invece sì secondo i tuoi pregiudizi ma la ragione li distrugge il sistema della libertà dell'uomo fu inventato unicamente per fabbricare quello della grazia così utile alle vostre chimere quale quale uomo al mondo vedendo il patibolo accanto al crimine lo commetterebbe se fosse libero di non commettere siamo trascinati da una forza irresistibile e mai un istante padroni di deviare dalla direzione che le nostre inclinazioni ci fanno prendere ogni virtù è necessaria alla natura reciprocamente essa ha bisogno di ogni crimine tutta la sua scienza consiste nel perfetto equilibrio tra gli uni e gli altri ma possiamo forse essere colpevoli della direzione che ci fa prendere non più del pungiglione che la vespa infilza nella pelle e allora neanche il crimine più efferato dovrebbe ispirarci spavento non è questo che dico se la legge lo condanna e la spada della giustizia lo punisce deve ispirarci ripugnanza o spavento ma se disgraziatamente questo crimine viene commesso bisogna farsene una ragione e non abbandonarsi a sterili rimorsi che sono vani poiché non ci hanno impedito di commetterlo e inconsistenti poiché non possono costituire una riparazione abbandonarsi ai rimorsi è dunque assurdo è più assurdo ancora temere di esserne punito nell'altro mondo se siamo abbastanza fortunati da averla scampata in questo a Dio piacendo io non ho alcuna intenzione di incoraggiare il crimine va certamente evitato il più possibile ma è la ragione che deve insegnarci a rifugirlo e non dei falsi timori che non conducono a niente e che in un animo fermo si dissipano rapidamente la ragione amico mio sì la ragione deve avvertirci da sola che nuocere i nostri simili non può mai renderci felici e il nostro cuore deve dirci che contribuire alla loro felicità è per noi la gioia più grande che la natura ci abbia concesso sulla terra tutta la morale umana è racchiusa in quest'unico motto rendi gli altri felici quanto tu stesso desideri esserlo e non fare mai loro più male di quanto vorresti riceverli ecco amico mio ecco i soli principi che dobbiamo seguire e non c'è bisogno né di religione né di Dio per apprezzarli e sottoscriverli c'è bisogno solo di buon cuore ma sento che le forze mi abbandonano caro predicatore rinuncia ai tuoi pregiudizi sia uomo sia umano senza timore e senza speranza getta via la tua divinità le tue religioni tutto quanto serve solo ad armare la mano dell'uomo il solo nome di tutti questi orrori ha fatto versare sulla terra più sangue di tutte le altre guerre e di tutti gli altri flagelli messi insieme rinuncia all'idea di un altro mondo non esiste nessuno ma non rinunciare al piacere di essere felice e di rendere felici anche gli altri e questo l'unico modo in cui la natura ti offre di arricchire la tua esistenza o di allungarla amico mio la volutà è sempre stata il mio bene più caro l'ho idolatrata tutta la vita e ho voluto finire la mia esistenza tra le sue braccia la mia fine è prossima nella stanza vicina ci sono sei donne più belle della luce del giorno le riservavo per questo momento godine anche tu seguendo il mio esempio cerca di dimenticare tra le loro braccia tutti i vani sofismi della superstizione e tutti gli stupidi errori dell'ipocrisia il moribondo suonò le donne entrarono e il predicatore divenne tra le loro braccia un uomo corrotto dalla natura per non aver saputo spiegare in che cosa consistesse la natura corrotta di l'ipocrisia l'ipocrisia